Sono qui! Provaci! Attenzione ragazzi, come osi prendermi in giro? Bella ragazzi, siamo sempre io e Capogoku Siamo qui con Freezer Che come vedete fa il raggio su Goku Ma Goku proprio se ne frega Goku se ne frega Troppo forte Non gli fai nulla Non gli fai nulla Chi sei tu? Adesso fa la scenata Sono il Super Saiyan della leggenda Il guerriere qui narrano la leggenda Il guerriere svegliato dalla furia Il guerriero che hai sempre tenuto Tenuto, non tenuto La tenuto nel cassetto Poi quando arriva è una magia Sono Goku E sono un Super Saiyan Va bene Quindi Direi che si può andare Ho potenziato il mio Freezer Colore azzurro Non so se l'avete visto all'inizio Mi ho gli addosso Oh Freezer Fai schifo Guarda Oh qua legnate Legnate Oh mi incornata Ho preso il Freezer Che dà l'incornata Perché speravo Sono già male Bene Non male In effetti Io non ho preso nessuno Che dà supporto Quindi È difficile Che qualcuno Mi rianimi Esatto Riprova Dov'è Goku? Vai Spaccagli La testa Vai Serie 1 Uniamo le nostre forze Qualcuno Serie 2 Perfetto Vediamo 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 Niente Oddio Non ho capito se Boom Che incornata Ragazzi qua Pestaro Pestaro Perché Fa sta roba Non so cosa faccio E questa Ah da una Spallata cosmica Spallata cosmica Aspetta 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 Rianimono Infatti Perché Non sono Domenicato Però Dagli la Spallata cosmica Guardala qua La spallata cosmica Boom Tra l'altro Ho preso 6 freezer Non so se L'avete notato Giusto per Snaturare Un po' Il gioco Che lo sapete Che è un po' Noia Allora Mettiamo su 6 freezer No 3 freezer Ho preso Seconda Terza Io sono Seconda Poi c'è Terza Corpo Perfetto Contro Un recom C'è contro Scusa E recom L'ho preso Perché era in mischia Volevo fare l'attacco sincro Però ovviamente Non lo fa Boom No allora Rialzati Boom Boom E ciao Eh Goku Sincro Eccolo qui Grande Boom Ciao Goku Ciao Goku Non sei durato parecchio Bonus speciale 180.000 Sali Sali E gira Sud Vediamo come vai All'indietro Aspetta Ti giri Non voglio che ti giri Voglio che vai all'indietro Non ti devi girare Come si fa ad andare indietro Schifoso Non lo fa Vabbè Va bene Missione compiuta Richiesta Genki No dai Genki no Genki no Non c'ho le dita Per fare il genki Non c'ho voglia Farò con la sinistra Per cambiare Come sta Perché Perché Ti mancavano 10 secondi Sali Scendi Sali Scendi Vabbè Questa missione è durata poco Quindi direi che ve ne faccio un'altra Cosa sia Grado SS Tanta roba Io saremo di livello Guarda lì Bah Potenza infinita Io non ho ancora capito Cosa serve Ah ma aspettate un secondo Aspettate un secondo I due freezer Erano di potenza 400 E ora sono saliti di livello Voglio vedere se sono più forti Vediamo eh Se questo è salito di livello però Non è salito Eh no però forse lui era 3,90 Aspetta Aspetta Allora personalizza Come si fa a togliere? Rimuovi 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 Eh 4,30 Però non mi ricordo Aspetta Questo è 400 Questo è diventato Senza niente 4,90 Eh non ho conferma No era un 4,30 Non so se era già 4,30 Di base Però sinceramente Eh dovrei capire se salito di livello Fanno qualcosa di quel genere lì Perché Vedi Freezer Terza trasformazione Livello 2 Il livello Bisogna dire Automati qua Ah Ok Va bene Va bene Eh Fa niente Va bene Eh Va bene Torniamo indietro Se lo smettiamo Missione Non ho sbloccato niente Qui c'è un'altra era Un'altra era Un'altra era Oppure Queste le ho fatte tutte Grado B Eh Queste mi sa che sono un po' più difficili Però vabbè Facciamola Chi se ne frega E non prendo Freezer Ma Prenderò Goku Super Saiyan Potenza base 435 Ragazzi Vedi qua Zack Poi Goku normale Fa schifo Non lo prendiamo più Prendiamo un Freezer Massima Potenza Potenza base 610 490 E E E Prendiamo Un No aspetta Questi due cosa sono Non ricordo più cosa sono Aspetta Tipo mischia Tipo mischia Goku cos'è Tipo mischia Perfetto Va bene dai Ho preso così No togli questo Freezer Mettimi No che schifo Scandaloso Vabbè Ho messo giù Una squadra Bella potente Adesso Se io faccio In teoria Così Personalizza Personalizzazione Automatica Bom Le carte Segnate Va bene Ola Ha messo tutto ciò che c'è di più potente sulla terra Va bene E poi qui mi metti questo Ma si a caso Per ora Poi ci penserò Un giorno Va bene Conferma Conferma Freezer Questo Melo potenzi Melo potenzi Per favore Personalizzazione E B Tra quelle non io uso Vabbè Vediamo cosa fa Beh dai Non male Beh dai Ce n'hai alla fine tante Che non hai usato Vabbè Facciamo Eh solo queste C'ho Ammazza La potenza base Di questo fenomeno Quindi se gli togliamo 45 Quanto era 610 Abbiamo detto Dai 610 Eh Probiamo a mettere Un po' di roba A caso Stiamo prendendo le mani No l'ho tolta dall'altro Freezer Vabbè 610 Vabbè Prendiamolo per bene Andiamo Andiamo Un 15 No C'è sull'altro Freezer Andiamo Un 10 Va bene Dai sentimi Sono già rotto Conferma Inizio 3 610 Era Adesso vediamo Se salendo di livello Aumenta la potenza base Di quel tizio lì Però non lo so Non do nulla Per Non lo so Non ne ho proprio idea Se qualcuno me lo spiega Sono anche più contento Se no mi arrangio E trovo un modo Di capire cosa servono Quei diavoli di livelli Sui personaggi Vorrei proprio capirlo Livello base Magari ti sale di 5 punti Non lo so Odì Oh E che cos'è E sono partiti alla grande Questi No Beh magari Non c'ho vita Mamma mia Che legnata qua Bam Bam Orca Cosa ho fatto No sono morto Non ho preso neanche un tipo supporto Quindi le prendo sec Sicuro Però vabbè Volevo provare Però le van tanto Ah Temete i Saiyan Sono io Non c'è Oddio L'ha beccato Mi ha fatto Tipo Kaioken Come l'altro Mamma mia Nappa Stai per estinguerti Oddio 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 Che pugno Ragazzi Cosa gli ha fatto L'ha festato C'è la legna Basta Nappa Poverino C'è Oh Veloce anche Veloce Dove l'altro Dove l'altro Dove l'altro Dove l'altro Non ce la faccio Non ce la faccio E lo sapevo Adesso quello viene eliminato Vai a salvarlo Subito Ok Perfetto No i Cyberman Non mi interessano Vegeta L'ho beccato Dai Levati Cyberman Non mi interessa Quello che fai Perché Ci muovi storico Nappa Eliminalo C'è poca vita Aia Il combo Orca no Dai la combo no Eh Non prendi Nappa C'è poca vita Vai Orca Ma rompete eh Nappa è andato Radish 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 Oddio Che potenza c'ha Goku È allucinante Gli dà tre pugni Lo elimina Cioè In mischia Fa un danno Allucinante Sto ticcio Orca no Veloce Vai Vai BAM Salvato Sto iniziando a capire Un paio di cose Di sto gioco Dopo mesi che gioco Vabbè Venti anni Cioè D'altrame facendo solo i video E non giocandoci da solo Non è facile Imparo Imparo poco Oh Boom Imparo poco E male Dai adesso No 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 È l'ultimo riprova È l'ultimo riprova È l'ultimo riprova Attenzione Vado addosso Boom In seguimento Fine Intanto vai a salvare quello Non so se ce la faccio Eliminato Vegeta Intanto Sì KB vince Bonus speciale 30.000 Come mi si è fallito Che No Perché è morto il tizio Ma dai Era morto prima lui Ma è morto prima Vegeta Ma scusa Ma è morto prima Vegeta Vabbè Questi sono saliti Sì Sì però era morto prima Vegeta Adesso mi tocca perdere due ore Alla fine il video era venuto corto Adesso verrà a lungo di mezz'ora Perché Io volevo eliminare Comunque Goku toglie un botto Ma proprio un botto Allucinante C'è la potenza Allucinante Devastante Che c'ha nei pugni C'ha i pugni nelle mani Quest'uomo La squadra Saiyan Sì dai C'è Goku con i tre Freezer E' proprio Nonsens Vabbè dai Non male Questo è un minore di mister E' proprio Eliminato Dai non rompere Ecco ci mancava pure Che mi insegno Ale pure Vegeta Eccolo lì E uno è andato Devo eliminare prima Nappa Eh scusate Prima Radish Radish Sì temo i Saiyano Odio il Kebab Dai No Vegeta no Radish Vai Questa Fa male Bomp Morto No non è vero Dove scappi Fermati un po' Guarda qua quanto ti levo Vai che hanno fatto Oh vai Grande Intanto andiamo No torna su una Radish Lo eliminiamo una volta per tutte Guarda quanto gli leva E' allucinante Rimango sempre Stupito Del male che gli fai Vai Veloce Che poi finisce il coso Bom Salvato Vai Snappa Subito C'è ragazzi Una potenza Cosmo Bam Mamma mia Anche su Leggete qua Che Fai A questa No cos'è Non beccati Caricati Oh in seguito Via bravi Mamma mia Il pugnazzo Teniamo le forze Dai qualcuno faccia un sincro con me Qualcuno faccia un sincro Dai No stavo parando E non è che si arriva addosso In parata Allora poi Vai No Si l'ho fatto Bom Serie max Pestalo 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 Non ha fatto Questa Oh Kamehameha Oddio L'ha elimina Oh no Non ce la faccio Vabbè Vediamo che Non deve più morire nessun altro Perché Oh cavolo Veloce Bravo Grandi l'hanno eliminato Fenomeni Fenomeni Stima totale per i Freezer Stima totale per i Freezer Erano proprio dei buoni Altro bonus Doppio addirittura Quindi troppo roba Quindi adesso voglio andare a vedere Siamo aumentando i punti Però vabbè A voi potrebbe anche non interessare Quindi per Noi Tutto si chiude qui Vi ringrazio E ci si vede come al solito Con i prossimi video Bella